MADONNA PUTTANA MIGA CHE TRUIA, QUESTO E' DA SCOPA, PORCA PUTTANA Questo è un altro che parla assai, Nemesis, sfidati C'è un'altra cosa? Sì, sì, assolutamente, c'è due mongolferi Pure di faccia è bella, è buona prova Vado a prendere nemesis quello Vabbè almeno questo mi ha lasciato Odito Bene loro hanno una squadra senza tank Però hanno quel cazzo di cupido che odio Due under Cia 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 Ma questa l'ho stesso anur di prima No abbiamo pure i janus che hanno un dito nel culo Buona no Pure nemesis è una palla Si è Un modino mi sa che è un coglione Già morto Nemesis è già andato a raccogliere cupido Buono No no non è quella skin la Eeeh Quella la come si chiama Moonlight Dent Non so pure io Te la dannano le cazzo di me Oh cristo Buona Ma è un coglione Già morto due volte No Nemesis invece è bravo perché è già prima che andato da corre a raccogliere cupido la davanti alla fontana Ihanus si sta facendo il Ihanus Cioè il rompipalle Ti sta abbastanza pressando i cosi Scannato, ho graffiato in testa E' forte che E' forte che vedo se adesso arriva e te graffia E' sta scilla Tutta lei convinta che me poteva affrontare Io ho sentito tutta la vita Se scappate con le scarpette Convinta proprio E' bello che veniva contro No aspetta Oh ma ho fatto una cosa buona Lo dico dico Ecco Quella cianghi lì rompe i coglioni Buono Madonna abbiamo neve C'è te vai insegui fino a base C'è te vai insegui fino a base C'è te vai insegui fino a base Cosa 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 No, no, Giannis. Oh, beat a back. Oh, ho visto uno volare. Sto arrivando. Oh, che culo. Sì, no, senza persificarla da dietro, proprio per shottarlo. Che stava scappando. Che quella mossa là non è buona solo per persificare, anche per ammazzare. Perché da dietro comunque, cioè, l'iva comunque è danno. Ma c'è sempre forse uno che deve fare schifo ogni volta, incredibile. Cioè, se no c'è uno che fa schifo non è smite. Che mazzo. Finchia quel poveraccio. Eh, però Nemesis è stato un po' coglione. Avrebbe dovuto essere stato oscuro, tu sai. Tu mira ai giocatori quando butti i minion, che gli fai un bel po' di tanto. No! È una giardina di Cristo! Un po' di tanto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.